Tempo di bilanci per il governo regionale. Nella conferenza stampa di Finiano, il presidente Frattura ha fatto il punto sull'attività svolta nel 2014. Bilanci in ordine, riduzione della spesa pubblica tra i risultati raggiunti. Ma la sanità resta il problema più grande per la regione. A illustrare le azioni messe in campo dall'ente provinciale di Campobasso, nonostante le difficoltà, è il presidente De Matteis. La provincia non si demoralizza ma continua ad andare avanti con senso di responsabilità alle sue parole. Nevicate anche a bassa quota e forti raffiche di vento siberiano accompagneranno i molisani fino a Capodanno. In Alto Molise raddoppiate le squadre dei Vigili del Fuoco per fronteggiare i disagi alla circolazione causati dal maltempo. Il grande freddo di questi ultimi giorni non sta fermando le squadre molisane. Campobasso, Termoli e Agnonese sono con la testa già al primo impegno del 2015. L'obiettivo è iniziare l'anno nel migliore dei modi. Bentrovati con l'informazione di Molise TV. Come avete sentito dai nostri titoli, tempo di bilanci per il governo regionale. Il presidente Frattura ha infatti convocato a una conferenza stampa per fare il punto sull'attività svolta nel 2014. Bilanci in ordine, riduzione della spesa pubblica tra i punti di forza ma la sanità resta il problema più grande per la regione. Servizio. Una conferenza stampa partecipata, quella convocata dal governatore Frattura per tirare le somme dell'attività svolta nel 2014. Conti in ordine, taglia la spesa pubblica per circa 14 milioni di euro tra i risultati elencati. Al suo fianco c'è la sua squadra, i dirigenti regionali, la segretaria di giunta Mario Algamogavero, i consiglieri Ciocca, Dinunzio e Parpiglia, oltre all'assessore Pierpaolo Nagni. Una conferenza dal profilo tecnico corredata da numeri, dati e percentuali. Ciò che preoccupa non poco è il capitolo relativo alla sanità, il cui debito complessivo ammonta a 400 milioni di euro. Impossibile garantire il rientro, il commento del presidente della regione, nonostante in gioco ci sia il suo stesso commissariamento. Timi di aperture di credito giungono da Palazzo Chigi, con 40 milioni di euro dalla legge di stabilità per il deficit della sanità molisana. Altri 30 milioni dal Fondo di solidarietà delle regioni. Somme importanti, ma ben lontane da rappresentare una vera e propria soluzione. Secondo Frattura, infatti, sarà difficile mantenere ondea di secondo livello. Il governatore, in merito alla querelle con la fondazione Pavone Neuromed di Salcito, ha fatto sapere che a breve sarà revocato il decreto commissariale 37, che assegnava 60 posti letto per la riabilitazione della struttura della famiglia Patricello. Frattura ha parlato di riconversione per gli ospedali di Larino e Venafro, non di chiusura. Dovranno caratterizzarsi per un'offerta diversa dall'attuale, diventando case della salute. Oltre allo spinoso tema della sanità, il governatore ha affrontato quello della ricostruzione. Oltre 40 milioni di debiti pagati, pochi mesi di attesa, sottoscritti tutti gli accordi di programma quadro in materia. Un bilancio positivo che si concluderà confermando la copertura finanziaria di 351 milioni di euro necessari per il completamento della ricostruzione. Solo allora, ha precisato Frattura, l'agenzia avrà soddisfatto la missione per la quale è nata. Sistemati i conti, il proposito per il 2015 resta uno, pensare allo sviluppo del Molise. Ed ora ascoltiamo insieme parte dell'intervista realizzata dall'editore di Molise TV, Federico Mandato, al governatore Frattura. Vediamo. Presidente, che anno è stato questo 2014? Un anno sicuramente duro, un anno duro soprattutto per i molisani, soprattutto per i lavoratori, soprattutto per le tante famiglie in difficoltà. Un anno che però è servito a noi a rimettere in ordine i conti della nostra regione. Una regione che finalmente ha un bilancio certificato, una regione che finalmente può cominciare a parlare di opportunità di investimento e di sviluppo. Quali sono state le difficoltà maggiori da affrontare? Le difficoltà maggiori sono state legate ai tanti debiti pregressi che riguardavano i ritardi con i quali questa regione pagava i propri fornitori. Ma questo riguardava tutti i settori, dai lavori pubblici alle infrastrutture, alla sanità, a tutto ciò che vedeva in qualche maniera la regione fortemente esposta e sbilanciata in termini finanziari. Siamo riusciti a riportare in ordine i conti. Ci rimane il problema del pregresso in sanità. Mi auguro che si possa, anche sotto questo aspetto, con un diverso atteggiamento da parte del tavolo tecnico, costruire il futuro per una sanità gestita in Molise, da una struttura commissariale molisana. Ricordiamo il suo slogan, il Molise di tutti. Quando sarà davvero il Molise di tutti? Io penso che il Molise di tutti lo sia stato dal primo giorno. D'altra parte abbiamo detto le vagonate di insulti che abbiamo più volte preso, probabilmente sono scaturite proprio dalla determinazione con la quale abbiamo rideterminato rapporti, organizzazione e riferimenti. Non c'è uno, due o tre, ma ci siamo tutti, con la speranza di impegnarci tutti, al netto degli errori o in coerenza con le capacità, perché nei fatti sia un Molise del sorriso e non della rabbia, che è troppo spesso emerso in questo primo anno e mezzo, anno e otto mesi di mandato. Perché non ha fatto il messaggio di fine anno a tutti i cittadini molisani convocando la stampa e tutti gli operatori? Perché ho preferito questa volta scriverlo. Quindi domani riceverà lei come i suoi colleghi, come i cittadini, un messaggio scritto. Quindi manderà 300.000 email? No, no, lo manderò a voi editori così da evitare il costo di 320.000 o il tempo richiederebbero 320.000 email, ma chiederò a voi l'aiuto di divulgazione del messaggio che invierò a tutti i cittadini molisani. Ecco, proprio questo è bello, l'aiuto a voi editori. Senza gli editori, senza i giornali, la televisione, come faceva domani Frattura a comunicare a tutto il Molise? Ma io non ho mai pensato che l'editore non debba esistere. È un imprenditore che fa il suo straordinario mestiere con passione e mi auguro che in tempi brevi la regione possa anche garantire quel sostegno necessario perché lo si faccia con una maggiore serenità. Senza il messaggio finale avevamo preso le pagine bianche e gialle di Campobasso e Sernia perché lei poteva telefonare ad uno ad uno i cittadini molisani, quindi senza appoggiarsi alle televisioni e ai giornali locali. Quindi poteva da stasera fino al 31 si poteva mettere al telefono e chiamarli uno a uno. Ma magari a poterlo fare. Onestamente se potessi e se me lo permettessero tutti i cittadini, andrei, non li chiamerei telefonicamente, ma andrei in ogni casa. Però mi rendo conto che non sarebbero sufficienti cinque anni di mandato malgrado i soli 320 mila abitanti di questa regione. Grazie però a voi e grazie anche a un diverso modo di comunicare che sono convinto caratterizzerà anche il 2015. Insomma risolveremo una serie di problemi che oggettivamente abbiamo vissuto in questo primo periodo di esperienza. Quindi messaggio finale, frattura che guarda la telecamera perché ormai è bravissimo a guardare direttamente la telecamera, messaggio finale del 2015 agli eletti. Penso che vi abbiate seduto così proprio per evitare di guardare la telecamera. Ma l'augurio è che sia uno straordinario 2015 fatto soprattutto di serenità. serenità derivata dalla certezza che una regione, seppure piccola come il Molise, seppure con tanti problemi, è nelle condizioni non di aiutare ma di accompagnare e semplificare la vita a tutti i molisani. Vi ricordo che l'intervista integrale al presidente Frattura andrà in onda subito dopo il telegiornale e sarà visibile sul nostro sito molisetv.com e sulla pagina Facebook dell'emittente. Continuiamo a parlare di politica nota congiunta del governatore e del senatore Ruta per illustrare lo stato dell'arte sui punti programmatici sottoscritti il 12 e il 27 ottobre del 2014. In fase di realizzazione del bilancio di previsione 2015 per le vertenze in campo si è raggiunto l'accordo sottoscritto con le parti sociali per formazione professionale e protezione civile. Per le centrali a biomasse si è proceduto alla revoca delle autorizzazioni. Per il decimo punto, quello politico, si legge nella nota di Frattura e Ruta, eravamo pronti ad illustrarlo il 22 dicembre. Lo faremo dopo l'incontro con le forze politiche della maggioranza in occasione della conferenza stampa che si terrà non appena predisposto il bilancio di previsione 2015. Comunque, entro i primi giorni di gennaio, conclude la nota congiunta. A ripercorrere il 2014, ormai concluso, anche l'ente provinciale di Campobasso. Grazie al senso di responsabilità che ci contraddistingue, siamo andati avanti nonostante le difficoltà, le parole del presidente De Matteis. Sentiamo. Viabilità, sgombero neve, riscaldamento, trasporto, disabili. Questi alcuni dei servizi al cittadino portati avanti dalla provincia di Campobasso nonostante il periodo di difficoltà dovuto ai tagli e ai cambiamenti previsti dal governo centrale. A tracciare un bilancio dell'anno 2014 il presidente Rosario De Matteis. La conferenza stampa ho voluto convocarla proprio per far conoscere ai cittadini della provincia di Campobasso quella che è la situazione delle province che pur nella drammaticità dei tagli di risorse che ormai dal 2010 ci assillano, anche quello che è stato il lavoro svolto in questo anno che comunque non è da buttare via, insomma, sia sulla sviabilità, sia sull'utilizia scolastica, sui risparmi soprattutto dei fitti, anche il trasferimento di scuole, qualcuno avverrà anche nel 2015, quindi con notevole risparmio di risorse che vengono pagate per i fitti. E poi tutto quello che è l'attività che drammaticamente noi svolgiamo tutti i giorni con alto senso di responsabilità. Per le province si apre ora un futuro incerto. Il futuro è un'ingognita perché, ripeto, nel 2015 io ci tengo a precisare che questa provincia, rispetto a tante altre province che sono già in pre di sesto, di sesto, questa provincia per il momento non ha problemi. Il problema adesso sorge anche per quanto riguarda il taglio dei dipendenti sugli esuberi. Già oggi ci vedremo con l'osservatorio regionale presso la regione perché abbiamo 90 giorni di tempo per determinare gli esuberi. Quindi io penso che il futuro certamente è critico, non è errosio, anche perché ci saranno ulteriori tagli, addirittura passeremo da 22 milioni di euro del 2010 a nessun trasferimento per il 2015 e addirittura dovremo dare a noi per il risanamento del deficit pubblico 600 mila euro allo Stato. L'ente e i suoi dipendenti non si demoralizzano, ha concluso il Presidente, ma continueranno a lavorare per il bene dei cittadini. Anche nel 2014 l'assessorato alle politiche agricole della regione Molise ha raggiunto pienamente, anzi superato, l'obiettivo di spesa pubblica previsto nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2007-2013. A renderlo noto l'assessore regionale Vittorino Facciolla che ha commentato un traguardo di rilievo quello raggiunto dall'assessorato che nell'anno 2014 ha attivato investimenti strutturali, infrastrutturali e aiuti in agricoltura per un totale di circa 30 milioni di euro. Risorse economiche, ha precisato Facciolla, che hanno contribuito al mantenimento e allo sviluppo del settore in attesa del nuovo ciclo di programmazione ormai alle porte. È tornata a riunirsi prima della fine dell'anno l'assise civica di Palazzo San Giorgio ad infiammare la discussione e la richiesta di sfiducia dell'assessore Cola Giovanni presentata dal Movimento 5 Stelle. Vediamo. Mi dispiace collega, neanche questo si è stati capaci di fare ammettendo il torto che c'è! Il torto c'è! Toni accesi a Palazzo San Giorgio tra maggioranza e opposizione dove ad animare la discussione l'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle che ha chiesto al sindaco Antonio Battista di ritirare la delega all'assessore Salvatore Cola Giovanni. Pomo della discordia, le luminarie natalizie e l'affidamento delle stesse alla movida show SRL. Secondo i consiglieri pentastellati, tutta la vicenda rappresenterebbe un evidente caso di approssimazione e superficialità inammissibile nella gestione della cosa pubblica. Quello che abbiamo rilevato è la poca trasparenza delle procedure che hanno determinato l'affidamento alla ditta esecutrice dei lavori che poi a sua volta ha dato a terze ditte il compito di montare le luminarie per un costo di 39.990 euro, quindi di sole 10 euro al di sotto della soglia e che ha consentito di poterle dare in affido diretto. Ma la cosa che più preoccupa è il fatto che le luminarie sono state installate ancora prima che arrivasse a Palazzo San Giorgio una proposta da parte della ditta. Questo lascia presupporre che c'era stata ovviamente prima una sorta di trattativa e di accordo. A prendere le parti della giunta e della sua maggioranza il sindaco Antonio Battista. La minoranza, l'opposizione porta le proprie ragioni su questa questione e noi abbiamo portato le nostre, quelle politiche, e abbiamo portato le ragioni della dirigenza che si è presa la responsabilità di curare tutta la parte amministrativa su un'idea, un progetto politico che è quello delle luminarie ma del Natale a Campobasso che non sono solo luminarie ma sono una grandissima organizzazione che ha coinvolto tantissime persone, tantissimi soggetti, tantissime associazioni con un numero enorme di eventi che hanno arricchito finalmente il Natale, il Capodanno e l'epifania dei cittadini di Campobasso. La mozione è stata respinta a maggioranza con 17 voti contrari, 5 invece voti favorevoli, quelli degli esponenti del Movimento 5 Stelle e del consigliere Francesco Pilone. Cambiamo argomento, il Molise nella morsa del gelo con temperature sotto lo zero e nevicate anche a bassa quota, disagi in Alto Molise dove si sono registrate abbondanti precipitazioni. Ad Agnone necessari numerosi interventi dei vigili del fuoco per tir rimasti bloccati sulle strade, ghiacciate il servizio. Si prospetta un Capodanno gelido per i molisani che già da ieri fanno i conti con la perturbazione Cleopatra, responsabile del crollo della colonina di Mercurio sotto lo zero. A Campobasso, temperature minime prossime ai meno 7 gradi e massima intorno ai meno 5. Venti gelidi di origine siberiana si abbatteranno sulla costa molisana, ma i maggiori disagi si registrano in Alto Molise. Per far fronte alle numerose richieste di intervento a causa delle precipitazioni nevose, strade ghiacciate e bufera, il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco di Iserni è stato potenziato con un raddoppio delle squadre operative in tutte le sedi. A Agnone si segnalano numerosi interventi per trasporto malati e per autovetture e tir rimasti bloccati. Nevicati anche in provincia di Isernia, con tetti imbiancati a Venafro. Nel capologo molisano sono in azione i mezzi per la pulizia delle strade, anche se la circolazione in alcuni ponti della città risulta problematica a causa dello strato di ghiaccio che si è formato nella notte. L'Agenzia regionale di protezione civile, viste le condizioni climatiche, ha dichiarato la fase di sorveglianza, avvisando che dalla giornata di oggi e per le successive 36-48 ore si prevedono ulteriori nevicate fino a livello del mare, con accumuli al suolo da deboli a moderati o localmente abbondanti, venti forti con rinforze fino a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte. Un quadro tutt'altro che rassicurante, specialmente in vista della notte di San Silvestro, tanto che gli esperti invitano la massima prudenza nel percorrere le strade molisane. Il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, e l'assessore ai lavori pubblici, Luciano Di Biase, hanno reso noto che da questa mattina 100 mezzi dell'ente con circa 130 uomini sono al lavoro per il servizio neve lungo le strade di pertinenza. Per ora, sia pure con parsimonia, si legge nella nota stampa, sono garantiti sia i servizi di pulizia a strade, sia lo sgombero neve che la rimozione del ghiaccio. Dalle prime indicazioni, pare che il manto nevoso sulle zone più a rischio, Guardia Reggia e Campitello Matese, abbia superato il mezzo metro, ma una stima per la giornata è difficile farla per via del forte vento. Non solo la sanità tra le priorità del Comitato Santimoteo, questa volta preoccupare l'Associazione Basso Molisana, la possibilità di una macro-regione adriatica. Sentiamo. Il dibattito sulle macro-regioni, che negli ultimi giorni è tornato di gran moda sulle pagine dei giornali nazionali e molisani, non ha lasciato indifferente il Comitato Santimoteo, che oltre alla battaglia sulla sanità, da sempre offre un presidio per la tutela e la salvaguardia del territorio regionale e in particolare della sua autonomia. Per il Presidente del Comitato, Nicola Felice, urge un confronto in tempi brevi su una tematica di vitale importanza. Quello che maggiormente preoccupa è che vediamo tante proposte che vengono quasi dall'alto, tra cui l'ultimo del PD, il disegno di legge che vede la nostra regione addirittura divisa in più parte e assegnata ad altre aree. Essenzialmente a noi interessa che i servizi vengono tutelati e garantiti. Questo ci preoccupa ancora di più oggi nel vedere che le province vengono meno in base alla nuova riforma. Il nostro indirizzo è quello di iniziare sin da ora con le Regioni Dimitribe a fare degli accordi di programma su settori fondamentali, quali è ad esempio la sanità e i trasporti, che tutelino effettivamente anche noi molisani. Questo del riassetto organizzativo della Regione Molise può essere il metodo giusto o ci sono altre spese futili che magari sarebbe giusto tagliare? Da un punto di vista della spende review, l'organo regionale di per sé accorpato agli altri porta a una riduzione di spesa, ma essenzialmente è importante organizzare i servizi e lì tagliare quegli enti inutili che effettivamente comportano un vero risparmio per tutti i cittadini. Dunque macroregione sì, se effettivamente comporta un risparmio, ma con tutte le cautele del caso che garantiscano al Molise la sua indipendenza attraverso degli accordi di programma con le Regioni Limitrofe. Un ciclista 42enne è stato investito intorno alla mezzanotte di ieri sulla strada statale 16 in prossimità dell'imbocco stradale per Campomarino Lido. L'uomo è balzato contro il parabrezza di un'auto ed è poi finito a terra. Arrepentini soccorsi per lui, che ha riportato una vistosa ferita alla testa, che ha richiesto il ricovero precauzionale presso il nosocomio basso molisano Santimoteo. L'incidente si è verificato un centinaio di metri prima del passaggio a livello di Campomarino Lido con le cause che restano ancora da accertare. Al momento l'uomo di origine rumena è stato trasferito presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove resterà sotto osservazione per le prossime 48 ore. Apriamo ora la pagina sportiva. In casa agnonese giorni intensi sul fronte mercato. La società infatti si sta muovendo in queste ore per tentare di portare alla corte di Donatelli quelle pedine che vanno a colmare alcune lacune in difesa e a centro campo. sono stati già visionati in casa Granata 2 under classe 1996. Si tratta di Michelangelo Staffa, ex pro Piacenza, Montenero e Termoli, difensore centrale di Alessandro Serrone, terzino sinistro che fino a novembre ha vestito la casacca del Gelbison in serie di Girone H. Il grande freddo di questi giorni non sta fermando le squadre molisane. Campobasso, Termoli e Agnonese sono con la testa già al primo impegno del 2015. L'obiettivo è iniziare l'anno nel migliore dei modi. Il servizio. Nonostante il grande freddo di queste ultime ore, le squadre molisane impavide continuano nella loro preparazione dei prossimi impegni di campionato. Uno fra tutti lo scontro tutto molisano di domenica 4 gennaio. Il Campobasso ha iniziato la marcia di avvicinamento al derby contro il Termoli di domenica prossima con la classica seduta di allenamento sul sintetico dell'antistadio Acli. Segnali incoraggianti arrivano dal gruppo con la squadra che gode di buona salute e con l'infermeria svuotata quasi del tutto. Mister Farina sta già pensando alla formazione da schierare nel derby. Sicuramente il tecnico campano non potrà contare su Minadeo e Pani, entrambi appiedati per un turno, mentre tra le fila degli Adriatici mancheranno invece i terzini russi e Scarpone. Insomma, l'atmosfera è carica per una sfida ormai alle porte. Sono carichi soprattutto i tifosi e proprio sul fronte tifoserie al momento pare non ci siano restrizioni legate da esigenze di carattere pubblico. Il settore ospiti del Selvapiano è omologato per 400 spettatori e potrebbe esserci una semplice prevendita. Non dovrebbero quindi esserci divieti di trasferta, anche se è chiaro che per scongiurare tale pericolo sia necessario attendere la riunione ufficiale che ci sarà nelle prossime ore. Sensazioni positive ci sono anche in casa Granata, dove la squadra è tornata ad allenarsi dopo l'amichevole Pentra di domenica contro l'Iserni e il Terracina. La truppa Granata è cresciuta nelle ultime giornate ed è pronta per la delicata sfida contro il Chieti. Donatelli sta spremendo al massimo i giocatori con carichi di lavoro importanti. Il gruppo proseguirà gli allenamenti anche oggi e si fermerà soltanto nella mattinata di San Silvestro, quando ci sarà il rompete le righe sino al pomeriggio del 2 gennaio, subito dopo l'amichevole Alcivitelle contro i cugini del vasto Girardi di eccellenza. Per la seconda volta in questa stagione Marco Didone lascia la guida tecnica del Real Prata. Il trainer ha comunicato questa volta in maniera definitiva la sua decisione di abbandonare per motivi personali la panchina. Preso atto della decisione, la società non ha perso tempo e ha contattato Fiorenzo Rivellini, tecnico con buona esperienza, e con trascorsi già in molise sulla panchina del Boiano. L'obiettivo della squadra è quello di raggiungere una salvezza tranquilla in categoria. Per riuscirci la dirigenza è alla ricerca di un attaccante che garantisca peso e qualità alla manovra. Oggi intanto il Real Prata sosterrà un'altra amichevole a Capriati contro il Pizzone. Cambiamo sport dal calcio, passiamo all'atletica. Anche quest'anno Andrea Lalli, il mezzofondista a campo chiarese, in forza le fiamme gialle, chiuderà l'anno solare con un impegno agonistico per lui, tra l'altro, non nuovo. Il rosso portacolori della finanza infatti sarà mercoledì in gara a Bolzano per l'edizione 2014 della Bo Classic. L'evento sui 10 chilometri in programma nel capoluogo Alto Atesino su un circuito cittadino in grado di mettere a dura prova i concorrenti per i suoi tratti in pavè per temperature che in sintonia con quanto si prevede nel resto d'Italia si annunciano particolarmente rigide. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso. Previsioni del tempo per mercoledì 31 dicembre. Una residua e stabilità interesserà il Molise nella prima parte della giornata con precipitazioni sparse a prevalente carattere nevoso fino al piano. Tendenza tuttavia a graduale miglioramento tra pomeriggio e sera con fenomeni in attinuazione. Ventilazione tesa dai quadranti nord-orientali con mari molto mossi o agitati. Temperature in ulteriore diminuzione nei valori minimi, stabili nei massimi. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima a meno 6, massima a meno 5. Isernia minima a meno 3, massima a 0 gradi. Termoli minima a 3, massima a 5. Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso.